Io non lo voglio un uomo per una sera, non la desidero una storia tanto per. Preferisco abbracciarmi da sola, che farmi abbracciare dalla persona sbagliata. Non aspetto una persona, aspetto la persona giusta, quella che saprà capire il casino che ho in testa, quella a cui dire ti aspettavo, e quella che mi dirà sono sempre stato qui. Vedo tantissime persone che pur di stare con qualcuno calpestano la loro stessa felicità. Devono chiedere, chiedere sempre, e io non voglio una persona a cui dover chiedere di essere ascoltata, abbracciata o capita. Non voglio dover chiedere un bacio o un caffè a letto. Voglio qualcuno che sappia donarsi senza volere nulla in cambio. Un amore che chiami i miei difetti dettagli e che abbia voglia di spiegarli al mondo quando nessuno li capisce. Un amore che mi accarezzi per il bisogno di farlo, un amore che sappia dare. voglio un amore all'altezza del cuore che ho. Grazie a tutti. Voi cosa parla.